la mia nuova macchina da cucire ti piace? l'ho comprata con il microcredito di Pangea di Pangea me l'ha detta una mia carissima amica certo, non è stato dall'oggi al domani ci è voluto impegno, costanza ma ho avuto la mia possibilità ho dovuto fare un corso dove mi hanno insegnato a leggere, scrivere e fare i conti e solo dopo ho iniziato la lezione di Sartoria in pratica per sei mesi sono andata tre volte a settimana al centro Pangea lì ho anche imparato a conoscere i miei diritti e ho potuto seguire un corso di igiene e sanità molto utile per me stessa e la mia famiglia non è stato per niente facile uscire di casa tutti i giorni le occhietacce della gente mio marito che non voleva ma non sono mancati momenti di puro divertimento eh, sono lontani i tempi in cui mio marito non era d'accordo adesso in famiglia entrano più soldi e c'è sempre più lavoro ma non è solo questo grazie a Pangea ho capito che non sono sola ho capito quanto è importante raccontare la mia esperienza e far conoscere Pangea ad altre donne perché possano rinascere come me ho capito che il lavoro è tanto ho capito che ci sono molte persone che possono aiutarci grazie a Pangea ho capito che abbiamo appena iniziato ho capito che il mondo è uno solo grazie a Pangea ho capito che hai nella mia famiglia ho capito che hanno contato ho capito che ha visto ho capito che riguarda le mie per la mia famiglia è una famiglia la mia famiglia Grazie a tutti.